Musica Buonasera a tutti, sono la maga Maria, faccio gattipini e pittia Buonasera, sono la maga Maria Buonasera, sono la maga Maria Maga Maria, buonasera, io volevo sapere qualcosa del mio futuro, cosa mi dice? Chi c'è? Io lo faccio, chi c'è le gatte? Chi sono la maga Maria? Per me e pittia, sono la maga Maria Si Faccio gatti per me e pittia Sì, volevo sapere come è la situazione mia a livello amoroso e di lavoro. Sì, sì, chi sono la maga Maria e chi c'è la fortuna. Sì, sì. Sì? Sì, sì. Come vede il mio futuro? Come vede il mio futuro? La fortuna ora vediamo. È belle le carte. Sì. La fortuna c'è. La fortuna c'è? Sì, perché ho dei tuoi consigli, perché sono la maga Maria. Ho capito. C'è lavoro. È lavoro, quest'anno è un po' difficile. Come difficile, sono la maga Maria. Come difficile, un ginne di felice. Ah, grazie, grazie. Tu, io sono la maga Maria. Io ti do la fortuna. Cioè, tu sarai il lavoro. Sotti e trovi una persona buona. Sì, sai fare tutto. Ti fai fidanzato, mi vedi a ballare e suonare, facendo la festa, c'è la festa a casa, c'è sempre suonare tutti i giorni. O lavoro qua o fuori, dipende. Hai le soldi, mi ricordate, ti racconto. Non ti preoccupare che sono la maga Maria, perché io ti do consigli, perché tu ce l'hai il lavoro. Sì, ce l'hai il lavoro, perché tu ce l'hai la fortuna. Ce l'hai. Perché io ti do consigli buoni. Ho capito. Sì, non ti preoccupare che tu lavori e hai soldi, perché sono la maga Maria. Perché tu ce l'hai il lavoro e tu ti fai fidanzato e ti sposi, perché è una persona buona. Buon servito, grazie. E un'altra cosa, per quanto riguarda la fortuna, la fortuna. Sì, ce l'ho la fortuna, ce l'hai, ce l'hai, perché io ti do consigli, perché sono la maga Maria. Ma perché ti vuoi consigli con mia? Ti do consigli buoni, sono Maria la maga. Ti do consigli. Dì, che testa che hai. Che testa che hai. Allora, c'è un moro d'ora. Sono la maga Maria. Ti do consigli buoni. Ma perché sei così? Ma perché? Ho capito. Dì, che sei un'altra cosa. Per quanto riguarda la vostra, aspetto una risposta di una persona, è positiva o la vostra negativa? Sì, è sicura. Allora, non mi credi, sono la maga Maria. Tu ce l'hai il lavoro. ti spazi, c'è l'amore, c'è il santo, poi c'è le figlie, poi il giorno ti spazi, c'è le figlie diventi due, diventi tre figlie, pure cinque, pure sei, sette, quattro, sono madre Maria ma perché, io ti do così di buone, mi chiede questa chiara però, che sono madre Maria mia pittia, io ti do così di buone, sono madre Maria, la fortuna ce l'hai, oggi per domani dopo domani, dopo domani, eh, io sono la madre Maria e basta, ti do così, perché non mi senti, così mi ne vuoi allora che cosa vuoi da me, se ti do la strada giusta, se ti do la strada male, ti do la strada giusta ti do così, sono la madre Maria, eh, la fortuna ce l'hai, perché sono la madre Maria si, va bene, ok, un'altra cosa dimmi, dimmi, visto che ho la possibilità di poterti parlare che sei così brava e cara, eh, come nonna, come la metti la nonna che ho io nella mia vita fai una bella vita, il lavoro, ti sposi, fai le figlie, fai la festa nasa, fai la festa in casa dai da fare l'amore, per furti i beni, carattere, eh, dai da te liare, perché sono la madre Maria io ti do così buoni, buoni, ti do la strada giusta il lavoro ce l'hai l'ho capito brava, grazie ok buonasera sono la maga Maria facciate bimbi e pettia ciao ciao ciao